grazie procediamo con il numero 6 previsto all'ordine del buono e per l'esattezza l'adeguamento all'anno 2020 del posto di costruzione esensi dell'articolo 16 del dpr 380-2001 successive modificazioni di integrazione prego la parola al sindaco della relazione questa delibera che appunto vede nell'oggetto l'adeguamento del costo di costruzione in effetti di una normativa c'è stato anche sollecitato sia dall'osl e dal ministero dell'interno il quale in procedura di disesto ha esortato il comune di Lucera a procedere con l'adeguamento previsto dalla normativa del costo di costruzione così come riportato all'interno della proposta di deliberazione su questa proposta di adeguamento dei costi di costruzione vediamo il parere favorevole sia del direttore di ragioneria sia del responsabile del servizio quindi della regolarità tecnica e vediamo anche il parere favorevole dei revisori contabili se volete leggo analiticamente la delibera altrimenti la diamo per letto grazie signor sindaco se ci sono interventi sul punto chi si prenota? nessuno? va benissimo ci sono delle dichiarazioni di voto? perfetto nessuno quindi possiamo procedere alla votazione il segretario anche del punto previsto alla sua propria numero 6 Presidente avevo chiesto? Presidente avevo chiesto? ti rivolto per la parola? si avevo chiesto io prego subito allora vale come dichiarazione di voto? ho due pregiudiziari avete respinto la prima e quindi il consiglio almeno chi ha votato a favore della prima si assume la responsabilità che ci sono atti che possono essere soffratti all'esame delle commissioni sappiatelo bene detto questo il mio voto contrario è da un lato determinato dal fatto che un atto così importante non è stato portato al baglio delle commissioni ancora una volta si esautola il ruolo delle commissioni consigliate dall'altro non essendo stato portato all'esame delle commissioni ritengo che non possa chiarire un voto nettamente contrario grazie consigliere del sabato ci sono altre richiamazioni di voto? no? grazie possiamo procedere dalla votazione no? grazie possiamo procedere dalla votazione Pista? favorevole Pizarro? favorevole Battista? Battista? favorevole 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 raggio favorevole la vecchia favorevole vecchia favorevole con te a te farfaro favorevole Volevo fare una precisazione noi la scorsa commissione abbiamo portato personalmente ho portato la faccetta per quanto riguarda l'adeguamento quindi è stata trattata favorevole comunque Antonio nell'altro del giorno le note del giorno della commissione non si riva no l'abbiamo portata prefiuso prefiuso favorevole 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 ma io direi la gesta affate contrario Polucci contrario e l'Aquila contrario Gli annanzuoni non c'è più contrario e sabato contrario e strella e strella contrario non c'è più buona 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 Bona infantilità contrario giusto contrario 15 valorevoli e 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 procediamo a votazione della immediata eseguibilità se non ci sono votazioni differenti se nessuno ha la mano procediamo con lo stesso tipo di votazione qualcuno vota in maniera differente se qualcuno vota in maniera differente anzi la mano niente allora nessuno quindi possiamo procedere grazie a tutti